Good morning Milano! Buongiorno a tutti e a tutti! Buongiorno a 7.05 lunedì 5 febbraio 2024, nuovo appuntamento qui su Crystal Radio, nuova settimana insieme, questa è Good Morning Milano, io sono Fabio Ranfi e dall'altra parte delle casse, delle cuffie, ci siete voi che tutte le settimane, tutte le mattine ci ascoltate dal lunedì al venerdì, sempre qui fedelissimi al nostro programma, dall'altra parte del vetro invece come dicono quelli bravi, viola la nostra produzione e quindi siamo tutta la squadra al completo, i protagonisti siete voi, siete voi che ci raccontate cosa fate durante la mattina, che ci raccontate quali sono i programmi per la giornata e anzi oggi lunedì possiamo anche fare i programmi per la settimana, sapete benissimo invece quali sono i programmi di Good Morning Milano e in realtà proprio di tutta Crystal Radio per questa settimana, cioè andiamo a Sanremo, andiamo a Sanremo Beppe, andiamo a Sanremo, andiamo a Sanremo Viola, no ce l'ho da solo, mi spiace non volevo illuderti, non potrai venire con me ma fa niente, ma anzi coaudiverà la bravissima Viola tutte le nostre trasmissioni qui da Milano mentre noi saremo a Sanremo, raccontarvi un po' il Good Morning Sanremo, per una settimana cambieremo il logo e sigla, va bene, cosa mettiamo al posto del Duomo nel nostro logo, un mazzo di fiori, cosa ci mettiamo? Un'onda del mare, un'onda nel mare che si frange sulla musica italiana, qualcosa del genere, boh non lo so, iniziamo qua con la musica italiana perché iniziamo con Liga Bue, mi ci pulisco il cuore. E questa era Liga Bue che arriva qua oggi a lunedì e darci un bel calcio nel cuore, come dice lui, per iniziare la settimana insieme. Sabato scorso invece era San Biagio, il 3 di febbraio, tradizione, San Biagio, protettore della gola, avete messo da parte la fetta di panettone a Natale da mangiare i giorni di San Biagio, mi raccomando, perché questa è la tradizione tutta legata appunto al santo e alla protezione della gola, si va in chiesa, ci sono le candele, vengono appoggiate sulla gola, quindi insomma una tradizione importante che tutti gli anni ricordiamo. Ma perché la ricordiamo anche? Perché il 3 febbraio, quest'anno proprio cadeva tutto il giorno preciso, 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 c'è il panettone d'oro. Ogni anno vicino a San Biagio c'è questo premio dato dal coordinamento comitati milanesi che premia le virtù civiche. Il 3, appunto al Teatro Franco Parenti, è in scena una premiazione. Tra i premiati una ragazza che chiameremo Alessandra, che ha fatto un gesto davvero di grande virtù civica. Prendiamo la notizia da Repubblica Milano che intitola così. Salvò una ragazza da uno stupro riconoscendo il segnale di aiuto, le quattro dita che si piegano insieme, avete presente? Ok. La giovane manager di McDonald's premiata a Milano, vero esempio di virtù civica. Alessandra è stata insegnita del riconoscimento del panettone d'oro dal coordinamento dei comitati milanesi. È salita sul palco, ha spiegato e raccontato quello che è successo, soprattutto quello che ha detto chiunque mi conosce sa che avrei comunque fatto questo, nel senso che dice è in me non stare a guardare, è in me intervenire. Quando ho riconosciuto il segnale è stato un attimo. Chiamare, chiamare il 112, aspettare che intervenisse e aiutare poi appunto a individuare la ragazza che aveva richiesto questo intervento, questo aiuto appunto verso, facendo questo famoso gesto delle quattro dita che si piegano all'unisono. Tanti, tanti premiati che sono saliti sul palco del Franco Parenti, oltre ad Alessandra sono stati premiati anche ad esempio Mr. Joe, la Giovanna Borella, non so se ve la ricordate, è venuta spesso anche qui da noi in trasmissione. Mr. Joe ha questo privato che senza volerlo è stata la prima bambina straniera adottata in Italia negli anni 60, oggi attiva invece nel mondo dell'associazionismo e ad esempio con l'associazione Bimbe del Pallone, dove lei appunto insegna a giocare a calcio a bimbe, ragazze, giovani donne che arrivano dalle più disparate zone della nostra città e anche del mondo. Altri volontari sono stati premiati come ad esempio Luciano Vacca, l'abbiamo avuto qua anche lui, biblioteca di condominio Aler, Fracone e Borsellino, una bellissima realtà che c'è in zona Maciacchini dove un condominio ha aperto una biblioteca. E poi tantissimi tantissimi altri alla presenza anche ad esempio dell'ex prefetto Renato Saccone, dell'attuale prefetto, di Fabio Treves, il grande cantante da Fabio Treves Blues Band, l'uomo del blues di Milano e tanti tanti altri due istituzioni. Insomma è stata veramente una giornata di festa, di celebrazione e soprattutto di riconoscimento di quella Milan col Query Man, come si chiama spesso, che in questo giorno e nel giorno del 3 di febbraio vede spesso e per fortuna la migliore Milano, venire fuori. Cesare Cremonini, chimica. È bello che quest'oggi ancora una volta Milano Today intitola con una di quelle notizie che fanno un po' girare le scatole, ma nel senso che ogni tre verdure abbiamo questa classifica, le mappe, le tabelle, di che cosa? Degli appartamenti più cari di Milano. Va bene. Uno, se alle 7 del mattino, 7.20 del mattino, sono sveglio e sto ascoltando Fabio Ranfi su Crystal Radio e Good Money Milano, ma non perché sia Fabio Ranfi o Good Money Milano o Crystal Radio, ma perché alle 7.20 del mattino se ho così tanti soldi per potermi permettere una casa di lusso così, perché sono sveglio? Questa è la domanda. Oppure sono sveglio alle 7.20 del mattino perché devo pagare? Le case di lusso, ma veramente le case di lusso pazzesche, eh? Cioè, in pochi, cioè, pensate che roba, cifre che arrivano anche a 4 milioni e mezzo di euro, ok? 150 metri quadrati, 4 milioni e mezzo di euro, cioè ma adesso, dai, va bene, ma secondo voi. Comunque c'è tutta la mappa, io non vi voglio spoilerare perché poi scoprirete delle cose ovviamente su zona supercentrale, Brera vince su tutti, ma City Life gli va dietro, poi comunque invece hai anche delle zone così che sono delle new entry, eh? Comunque, piazza della Scala ovviamente, c'è pensato, quindi tra parentesi c'è gente che ha un appartamento in piazza della Scala. Dobbiamo anche sfatare questo mito del fatto che il centro città sia semplicemente solo uffici o servizi, no? Ci sono anche gente che ci abita, dubito, gente che ci abiti lì, no? Qualcuno che ci abita della tradizione, cioè, di famiglia esiste, secondo me, cioè ci sono, eh? Ci sono sicuramente, sempre meno, sempre meno, quindi sono sempre di più appartamenti di grandi gruppi immobiliari, finanziari, spesso volentieri che vengono poi affittati o, cioè, hanno affitto a lungo termine. Chissà se c'è l'affitto con riscatto per una casa da 4,4 milioni e mezzo di euro. Cioè, è tantissimo, veramente, non credo, cioè, faccio fatica anche a scriverlo, come si dice in questi casi. Comunque, vabbè, ci sono, ci sono, mi hanno today, ne fa una mappa, è interessante, sapete che i siti internet mettono i tag delle varie notizie, attualità, economia, così. In questo caso, Milano Today, nella sezione dossier, ha voluto usare il tag, la categoria, chiamiamola così, riccanza. Pensa adesso, mi arrivate ad usare anche queste parole completamente assurde, anche sui giornali. Vabbè, comunque, oh, io una sguardatina la darei, magari scoprite che c'è una bellissima occasione dell'ultimo minuto, una last minute a 3 milioni e mezzo di fianco a casa vostra, beh, fateci un pensiero, dai, magari andate giù, andate giù dal vostro, in banca, ma neanche, andate giù in banca, neanche, ormai è tutto online, comunque, vi collegate alla vostra banca e dite, salve, vorrei rinegoziare il mio mutuo, sì, no, no, non più i 120 mila euro che mi avete dato in 86 anni, dopo aver anche donato un rene e dato il mio DNA in modo che possano pagare i miei, i miei redi, no, avrei bisogno di 4 milioni e mezzo di euro, sa, sono 3 milioni di casa, poi non ci vuole mai tenuto un biglioncino di arredi e ristrutturazione, vabbè, comunque, ridiamo per non piangere, è questa la verità, andiamo avanti con la musica, che pezzo, 1982, uno dei pezzi che cambiò la storia della musica nel mondo. Walking on sunshine, e invece sunshine un pochino ce n'è stato, a presi di sole ne abbiamo avuto, però abbiamo anche l'inquinamento, eh sì, leggiamo da Milano Today, ancora aria inquinata e irrespirabile a Milano, usciti dalla città e stati lontani dalle strade, chi ha detto, Carlo Monguzzi, ebbene sì, Monguzzi è intervenuto sul tema dicendo, insomma, sono 10 giorni, anzi, vi darò la novità, 11 e poi dopo ne prendiamo meglio, che Milano è sopra i livelli di inquinamento consentiti e quindi, e qui dice come Monguzzi, non ne parla nessuno, quindi per favore, voi della stampa ce lo potete dire, potete dirlo ai cittadini, potete far sapere che è pericoloso stare in città e quindi chi può, se può, magari nei weekend, questa intervista è di venerdì sera, dice, se vuoi magari nei weekend andate fuori città, la cosa interessante, chi non può, sono cavoli amari e ricordiamo che magari sarebbe meglio non fare attività fisica all'aperto in questi giorni, non andare a correre lungo le strade, se potete fare percorsi all'interno della città passando ai parchi è sempre consigliabile, perché è un minimo di mitigazione all'inquinamento, nelle zone più boschive c'è, anche nei parchetti più piccoli c'è veramente una gran differenza, si riesce a salvaguardare un po' di più la propria salute, siamo veramente a livelli molto molto alti di inquinamento e molto molto pericoloso, dal sito dell'AMAT che è l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio ci sono i report giornalieri, vado oggi sul sito, convinti di trovare quello di ieri, immagino che quello di oggi non ci sia, nel senso è appena iniziata la giornata, magari quello di ieri no, quello di sabato e mi accorgo che invece l'ultimo è quello di venerdì 2 febbraio, ovviamente impietoso, livelli altissimi, tra parentesi io faccio sempre questa cosa, che il PM10, il livello più alto delle colonie sia in via senato, a me fa sempre sconvolge, perché vuol dire che c'è un traffico assurdo e comunque un movimento assurdo anche nel centro, nonostante RB e RC e tutto il resto, ma quello che mi sono accorto è detto, vabbè ma perché mai non c'è quello di sabato, lì è quello di domenica, vabbè, mi sono accorto che non esistono i report di sabato e domenica, sul sito di AMAT, sono andato a vedere anche gennaio, adesso guardate, lo faccio in diretta con voi, vado a vedere ad esempio, prendo il weekend del 13 gennaio, 13 gennaio era un sabato e se io scelgo il report del 13 gennaio non c'è, ma c'è il report del 12 di gennaio che era sabato e non quello di, scusate, che era venerdì e non quello di sabato e non quello di domenica, evidentemente non respiriamo di sabato e domenica, questo evidentemente non respiriamo, io ho capito che c'è, ma è il vostro lavoro, non mi interessa del perché e del per come, perché non abbiamo il report del sabato e della domenica, così che si possa capire soprattutto perché e per come c'è l'inquinamento, perché c'è meno traffico sabato e domenica, ma se i livelli non scendono, c'è, sarà un problema, no? Sta di fatto che, scaricando, perché poi questo che dici, qua, vediamo, vediamo un secondo, 11 giorni, poi nei grafici ci sono, non si capisce perché nei grafici, poi ci sono anche i sabato e domeniche, però non sono contemplati invece nei report giornalieri, sta di fatto che dal report di venerdì 2 febbraio risulta che venerdì 2 febbraio era l'undicesimo giorno di superamento delle soglie nella città di PM10, nella città di Milano, ecco, e quindi questo che Monguzzi, appunto, su Milano Today dice, trovate delle soluzioni, andate fuori città se potete, non fate attività all'aperto, cercate di salvaguardare soprattutto, lo sappiamo sempre, bambini, persone più anziane, persone con problemi di respirazione, insomma, quelli che hanno più bisogno di essere aiutati. E questa era Raph, se la più bella del mondo, ieri sera l'hanno detto in tanti alla amata squadra dell'Inter che si porta a casa, i tre punti forse più importanti del campionato contro la Juve ieri sera, il derby d'Italia, un 1-0 su autorete oltretutto, quindi insomma è stata una partita abbastanza particolare e sta di fatto che appunto si sono portati a casa questi tre punti e la galoppata verso il tricolore è sempre più avanti, no, porto una sfiga sta roba a dirlo, è micidiale. Comunque, perché parlo di questo? Beh, parlo di questo perché metà di voi ieri sicuramente, se non di più, erano davanti al televisore o allo stadio, si è sentito un gran boato a un certo punto arrivare, noi siamo qua vicino, quindi si sente e quindi siete parte in causa di questo racconto, ma soprattutto perché nel weekend c'è stata la Borsa Internazionale del Turismo, il BIT, non so se lo conoscete, tanti di noi sono stati magari, per me era la tappa fissa quando ero un ragazzino, quando ero bambino, i miei amici portavano, era anche uno dei pochi posti dove andavi e scoprivi il mondo, davvero, c'era un po' l'enciclopedia vivente, l'Atlante vivente di quello che si poteva andare a fare magari poi in estate, si scoprivano paesi in cui magari si andava a fare le vacanze vicino, la Francia, pure la Germania, l'Europa, si scopriva l'Europa oppure si sognava con mete lontanissime, la Polinesia, l'Indonesia, la Micronesia, oggi c'è la Polinesia, comunque si faceva questa cosa qui, era un momento importante in cui si andava, si scopriva un po', c'erano le agenzie di viaggio, c'erano i paesi proprio che raccontavano la propria tradizione, si mangiava anche un po', c'erano i pipì, andavi lì, non era il salone del gusto, però non so, andavi in Francia, magari c'era quello che faceva le crepe, un pezzettino di crepe te la dava, andavi in Brasile, ti davano i churros, queste robe qua, e quindi perché vi sto raccontando tutto questo? perché è tornata, cioè il beat c'è stato anche questo weekend, ma questa mattina dovevamo sentirci con un'inviata d'eccellenza, che si lega anche all'Inter però, che era la zia Clarissa, ok, mia zia, sì, mia zia è andata al beat con una grande, sabato era felicissimo, lo diceva tutti, ha chiamato tutti i parenti per dirci che sarebbe andata al beat, ma, e questa mattina andavamo a collegarci con lei, ma ieri sera ha visto la partita, ha sbraitato, perché oltre a essere una grande globetrotter ad amare tanto il viaggio e ad andare alla beat, anche è una grande interista, e quindi ieri sera si è sgolata guardando la partita, e quindi non ha più voce per collegarsi con noi, e quindi non possiamo collegarci telefonicamente con la zia Clarissa, ma da buona reporter ha fatto un resoconto molto dettagliato sul suo profilo Facebook, vi dico che sono 11, 5, 24, ci sono una quarantina di foto, se non di più le ha messe, di più, di più, mamma mia, sono tantissime, sono veramente un po' la sua chiosa e la sua recensione finale, Milano, Beat 2024, un po' delusa, un tempo era veramente bello e interessante, manifestazione dal vivo di molte regioni d'Italia, e balli, canti, e prodotti che potevi acquistare anche, oggi parebbe una manifestazione per gli addetti al turismo italiano e mondiale, quindi addetti ai lavori, allora mi chiedo, perché istituire un giorno per i visitatori? Comunque, l'idea di viaggiare è sempre più viva per me, quindi sempre di più Globetrotter, quindi un messaggio di speranza alla fine della zia Clarissa, ma effettivamente si fa una domanda, perché aprire un giorno ai visitatori se è una fiera di settore? Questa stessa domanda se l'è fatta venerdì qui con noi, e ribì quando ho detto appunto gli eventi della settimana a cui non andrei, uno di quelli era il Beat, ma perché? Lo chiediamo, signori della Borsa Internazionale del Turismo, perché aprite al pubblico una fiera che alla fine è una fiera di agenze viaggio, che tra parentesi, non me ne voglio in agenze viaggio, ma ormai con internet, cioè se io voglio viaggiare vado a cercare le informazioni su internet, poi semmai vado in agenze viaggio per chiudere il finale, per mettere a fattore comune tutto quello che ho pensato, vado lì e dico, guardate, io vorrei fare sto viaggio, non si può fare, non si può fare, voglio andare in Alaska, mi sa che è un po' complicato, mi dite come si fa fare un viaggio, senza pensieri voglio andare anche a Sharma & Shake, che va bene, trovatemi quello più economico e ci vado, però perché devo andare in una fiera dove c'è solo agenze viaggi, a me non dove, ha detto, della zia Clarissa di cui mi prendo ogni responsabilità, sono in questo caso, me la prendo tutta quanta, in quanto sangue del mio sangue, comunque rimango delusa, tante appunto le foto che sono state pubblicate dalla zia Clarissa, però effettivamente non si vede granché di quella fiera che molti di noi magari si ricordano, sì qualche ragazza con vestiti tipici, qui siamo dove siamo, in Romania, Romania, Lettonia, sì insomma ci sono un po' di vasi, Sicilia, Sicilia, Sicilia ci sono i vasi con le teste di moro, però poca roba così sembrerebbe, quindi mi spiace per chi è andato al beat ed è rimasto deluso ricordando soprattutto i grandi momenti di quella fiera in cui noi ragazzini nati negli anni Ottanta passavamo magari un'intera giornata dicendo adesso vado in Brasile, tac un passo di là, adesso me ne vado in Texas e facevo un passo dall'altra parte, era veramente un momento bello da vivere con la famiglia e dove si scopriva il mondo intiero. E lo di fari spenti, 7 e 52 minuti, arriviamo quasi, siamo quasi alla mezz'ora, scusate all'ora, siamo quasi alle 8 ma sapete che il lunedì prima di andare in pausa vi diamo il buon lavoro, anzi lo fa Filippo Poletti, top voice di LinkedIn che tutti i giorni sul suo profilo racconta il mondo del lavoro e lo fa soprattutto il lunedì qui con noi con la sua rubrica del buono lavoro e quindi linea a te Filippo. Buon lavoro a tutti, settimana speciale, settimana di Sanremo e allora la prima parola della settimana è musica, sul palco dell'Ariston vedremo sfilare tanti artisti e ricordiamoci che dietro ad ogni artista ci sono tanti professionisti, c'è chi registra la musica, c'è chi la produce, c'è chi la distribuisce, la vende, per non parlare poi di tutto quello che ruota intorno alla diretta Rai condotta da Amadeus. E allora queste sere quando vedremo e ascolteremo gli artisti e li applaudiremo da casa ricordiamoci la lezione della musica. A vincere è sempre la squadra. La seconda parola chiave della settimana è lingua. A Sanremo si canta in italiano ma quali sono oggi le lingue più remunerative sul mercato del lavoro? Un'interessante ricerca condotta da Priplai ci dice che ai professionisti che sanno l'estone, il malese e l'indonesiano sono offerte prospettive di lavoro più remunerative. Buono da sapersi. La terza e ultima parola chiave della settimana è piano B. Quanti di noi non hanno pensato almeno una volta nella vita di cambiare lavoro? Chissà magari per farne uno più creativo laddove appunto non ne facciano già uno creativo? E allora questo libro di Vittorio Martinelli al quale ho contribuito anch'io ci dice una cosa molto chiara. Dobbiamo avere un piano B basato su una strategia ponderata ed efficace. In sostanza mai fare colpi di testa. Buon lavoro a tutti e lo dico da ex insegnante di musica alle scuole medie buon Sanremo a tutti. Simpli Red Stars il Crystal History delle otto sempre qui, Good Morning Milano come state? Che fate? Non so se avrete, allora vi do questo retroscena backstage di Good Morning Milano vi sarete reso conto che non vi ho dato il numero di Whatsapp questa mattina, il 3317853555. Perché? Perché ho già smontato il computer di Whatsapp. Perché? Non vi spiego. Noi abbiamo un computer dedicato alla lettura e alla ricezione dei messaggi via Whatsapp. L'ho già smontato e ho già nella valigia per andare giù a Sanremo. Vi dico la verità. E quindi non ho avuto modo di star lì a ritirarlo fuori e rimontarlo questa mattina. Quindi se mi avete scritto vi ringrazio. Più tardi li leggo. Quando arrivo a Sanremo lo apro e leggo tutti i messaggi. Li leggo anche domattina. domattina poi faccio il resumé, il report dei messaggi di questa mattina. Ve l'ho già detto, ve lo ripeto appunto da domani mattina in diretta da Sanremo dalle 7 alle 9. Vi raccontiamo la città, vi raccontiamo tutto quello che succederà a Sanremo. Ok? Quindi vi raccontiamo quello che succede a Milano con i giornali, il nostro solito segna stampa e tutto e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto vi racconteremo invece quello che succederà nella città della musica e ovviamente anche con interviste. porteremo a casa un po' di materiale così da rendere la settimana Sanremese anche una settimana qui a Milano dove si parlerà di musica e dove cercheremo di raccontarvi anche l'esperienza. Vi do anche quest'altro risvolto della notizia. È la prima volta che ci vado. Quindi vi potrò anche fare questo racconto della prima volta a Sanremo. chissà. Quindi anzi se avete domande, curiosità, cose anche, c'è tipo, ah ma di che colore sono le insegne? Ve lo chiedo, che clima c'è? Tipo, vado giù vestito come quello Noio Voulez-Van Savoie. E questo era il sommario, il sommario della settimana di Senti Questa. E sì, Ambrogio Curti ci ha raccontato e ci ha ricordato che cosa potremmo sentire, ascoltare dopo di noi. Ricordiamo alle 8.56-57 noi chiudiamo, poi c'è il giornale radio e intorno alle 9.05 ricomincia la programmazione di Crystal Radio con Ambrogio Curti. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la grande musica nazionale e internazionale raccontata dalla sua voce, raccontata dai suoi aneddoti e da tutto quello che è bello sapere su questi grandissimi artisti che lui ci fa conoscere, se non li conosciamo ancora, oppure ci fa ancora più affezionare ad essi, se magari siamo già conoscitori di un certo tipo di musica, insomma. Questa è la musica che va su Crystal Radio, un po' di tutto, e ve lo faccio ascoltare un po' di tutto anche nella prossima canzone, perché pensate, facciamo un salto di decenni e arriviamo a quella che molti definiscono da trap, secondo me con un'artista molto brava, milanese, con una canzone del 2020 che ha fatto, secondo me, ha messo una bella puntino sulle i di chi fa bene questa musica. Anna col bando. Eh lo so, non ve l'aspettavate questa Anna col bando, eh, lo so, lo so, ma ogni tanto bisogna anche mettere della musica che ci sta perché ha fatto il suo, secondo me Anna è uno di quei, cioè bando appunto di Anna, è uno di quei pezzi che ha fatto un po' da spartiacque nella musica trap, ma soprattutto ha dato un'idea di cosa vuol dire farla a Milano senza per forza dover essere sempre cattivi, poi in realtà c'è, beh, c'è tutte delle, cioè capirne il testo praticamente perché è nato, ma già forse dopo gli anni, cioè già se è nato nel 90 fai fatica capirlo, forse, niente da dire, quindi pensate noi altri nati ben prima, c'è tutti dei riferimenti alla cultura un po' lontana da noi, la genzetta e tutto quel mondo lì, però, però sa di fatto che, insomma, sono pezzi che ci vogliono, poi lo sapete, quando possiamo mettiamo altra musica e fra poco arriva un pezzettone, un pezzone pazzesco. Volevo ricordarvi invece una cosa di Sanremo, che sono i cantanti, diciamo, io ho definiti che hanno a che fare con Milano, perché definiti milanesi proprio, non propriamente, ma diciamo che hanno a che fare con Milano e sono ad esempio Gali, quindi sono un po' quelli su cui io ovviamente metterò un po' il focus in questa settimana, quindi dicevo Gali, Dargen, Angelina Mango, che in realtà vive a Milano, quindi è milanese d'adozione, ma appunto vive a Milano, produce a Milano e quindi perché no? Rosvillian, anche lei, ovviamente nata a Milano, Mahmood, Big Mama, diciamo una delle ragazze di Porta Venezia, i The Colors, sono milanesi anche loro, e Clara, che anche lei vive a Milano. Questi sono, diciamo, i uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto cantanti su cui diamo più il focus parlando di Milano. Poi è ovvio che, lo sappiamo benissimo, se fai musica non puoi prescindere dall'avvenire a Milano, in un certo senso. Sappiamo che Milano è la capitale della musica italiana, le più importanti measure, i più importanti studi stanno qui a Milano e quindi non si può prescindere dall'essere a Milano, ma non è sempre stato così, ci sono stati anche i grandi della musica, sono venuti a Milano per produrre, ma gli stessi Lucio Dalla, passavano di qua, cioè prestavano a casa loro, ma dovevano venire qui per fare quel passaggio lì, per fare quel passo che ti aiutava poi a diventare i grandi produttori, sono qua, quindi le grandi measure sono qua e quindi se tu vuoi fare quella carriera devi per forza bastare da Milano. Questi saranno i cantanti su cui farò il focus e vedremo un po' chi sarà il più milanese anche a cercare di parlare un po' di territorio, parlare un po' del legame con questa città e che cosa significa fare musica oggi in Italia e soprattutto nella nostra città. Tutto questo questa settimana da Sanremo. L'ho parlato di musica, non potremmo che non mettere anche i grandi Beatles questa mattina. Questa mattina ha una grande programmazione dall'ufficio musicale. Grazie! Rolling Stone Satisfaction, 1965. Beh, tra primi e dopo la pubblicità praticamente poteva tranquillamente essere una radio degli anni 60. Prima abbiamo messo i Beatles con All You Need Is Love, adesso i Rolling Stone. Pensate c'è qualcuno tra noi che ha vissuto quei momenti in cui le radio mandavano in onda queste cose come l'ultima novità appena uscita. Pensate che emozione è la prima volta che avete sentito il giro di chitarra di Satisfaction. Oppure che uscivate di casa cantando All You Need Is Love, papaparapà, perché poi si fa così, no? Quella è la versione nostra, è papaparapà, così. E pensate, vabbè. Ma comunque volete mettere con l'emozione di poter uscire di casa adesso e cantare? No, non lo dico che poi dopo dite che sono cattivo con i cantanti di oggi, quindi no, no. Anzi, ma poi c'è della roba buona, c'è della roba molto bella. Allora, è un po' di tempo che, adesso lo dico l'ufficio programmazione, è un po' che non sentiamo stroma, eh? Che a me piace tanto, che insomma secondo me dovremmo l'ufficio programmazione, ecco, faccio le richieste, pensate, è la prima radio al mondo in cui è il DJ che fa le richieste e non il pubblico, capito? Cioè il pubblico si chiama e dice mi metti su quella che fa, no. Invece qui è lo speaker direttamente che fa le richieste. Da Milano Today, prendiamo la notizia di oggi. Abbiamo parlato di inquinamento prima, abbiamo detto che è undicesimo giorno, molto probabilmente tredicesimo giorno consecutivo se contiamo i sabati e le domeniche, ma ultimo giorno di sole a Milano. In arrivo cieli grigi e piogge. Le precipitazioni dovrebbero attenuare la presenza di inquinanti nell'aria, così intitola Milano Today. Un lungo articolo in cui spiega tutto quello che succederà da domani, martedì 6 febbraio. Dovrebbe arrivare appunto in cambio di tempo, con giornate grigi, grigie, e piogge e quindi dove non riesce l'essere umano a sistemare i propri problemi ci pensa la natura e quindi visto che gli inquinanti sono altissimi e non riusciamo a trovare una soluzione per abbassare gli inquinanti nell'aria, ci arriva lei. Arriva la santa madre natura che ci dà un bel acquazzone, lava via tutto e quindi ci butta giù queste polveri sottili che tanto tanto ci stanno facendo penare in questo momento. Ricordiamo il tredicesimo giorno consecutivo di inquinamento sopra livelli, insomma davvero davvero preoccupante la situazione. Maneskin con Valentine, 8 e 37 minuti di oggi, lunedì 5 febbraio. Lunedì 5 febbraio, cosa è successo nel mondo del 5 febbraio? Ma è un giorno che ha a che fare molto con lo sport, ci siamo accorti di questo guardando le date degli avvenimenti di oggi, perché sono nati oggi ad esempio nel 1985 Cristiano Ronaldo, ad esempio, 39 anni fa, complimenti anche a Cristiano Ronaldo. Nel 92 invece nasce Neymar, quindi anche lui un grande sportivo. Nel 64 nasceva, nasceva nel 64 comunque, Carolina Morace, grande giocatrice di calcio femminile, una forse delle ambasciatrici del calcio femminile in Italia e nel mondo, cioè se il calcio femminile sta prendendo piede, sta portando i risultati soprattutto magari non ancora in Italia, ma tanto ad esempio Germania, Stati Uniti e così, e anche grazie al lavoro di persone come Carolina Morace. E poi anche Carlo Stevez, sempre 40 anni fa, nel 1984 nasce anche quest'altro grande calciatore, tanti calciatori sono nati oggi, ma soprattutto nel 1950 per la prima volta viene trasmessa una partita in televisione in Italia, Juventus Milan, 1950, 74 anni fa praticamente la tv era un oggetto mistico quasi, nel senso che pochi lo avevano, pochissimo avevano in casa, qualcuno nei bar e per la prima volta appunto viene trasmessa la partita, una partita di calcio in tv. Immaginate di vedere Milan e Juve che praticamente avevano le maglie quasi uguali, nel senso che tutta strisce e non capivano qual era l'uno o qual era l'altro, forse si riusciva a capire grazie al colore dei pantaloncini che credo che il Milan mettesse all'epoca bianchi e la Juventus mettesse appositamente nero, così che potevi capire un po' che era l'un altro, perché comunque era un blanco e nero, cioè non si capiva niente, che casino, e poi immagino anche che immagine e da dove riprese, comunque 74 anni fa era una prima partita di calcio, ma invece parlano di musica e beh, era il 1991, era il 5 febbraio ed usciva l'ultimo album dei Queen al completo, eh sì, Innuendo, Innuendo usciva nel 1991 un grande pezzo di musica, un album che chiude la carriera di Freddie Mercury con i Queen nella migliore delle maniere, forse, nel senso che davvero è un grandissimo album, dei pezzi passati alla storia, Innuendo, I'm going slightly mad, ma ad esempio un altro, un altro pezzo che era importantissimo, che era proprio una sorta di lascito che Freddie voleva portare a tutti quanti dell'idea del fatto che comunque vada, comunque le cose succedano, lo show deve andare avanti, era il 1991 e in Innuendo c'era questa traccia. The show must go on, i Queen, 1991, era il 5 febbraio del 91 quando appunto usciva questo disco, l'ultimo disco con tutti i Queen al completo. 5 febbraio è anche una data importante per la televisione italiana, non solo perché era stata trasmessa la prima partita di calcio in TV nel 1950, ma perché nel 1958 nasceva Fabrizio Frizzi, il compianto, il grande, il fantastico Fabrizio Frizzi nasceva appunto il 5 febbraio del 58, ci ha lasciato, ahimè, già ormai da tanti anni, era il 26 marzo del 2018, pensate quanto tempo mai è passato, ma non possiamo non ricordarlo nel giorno della sua nascita, una persona stupenda che è entrata nelle case di tutti noi in punta di piedi, ma facendoci grande compagnia e facendo anche, portando anche tra parentesi delle innovazioni, delle trasmissioni pazzesche, dei modi a che di dire che sono rimasti nel nostro immaginario collettivo e anche personale. Questo è il Fabrizio Frizzi che tutti vogliamo ricordare, io personalmente ho un ricordo legato a lui per quanto concerne ad esempio Toy Story, ricordiamo la voce del cowboy di Toy Story, lui cantava You got a friend of me, ad esempio che è quella canzone lì, è ricantata da Frizzi e Company nella versione italiana, insomma doppiare Toy Story è stato veramente qualcosa di davvero lo sceriffo Woody, doppiare ricordiamo in Toy Story, nella saga di Toy Story e ripensare adesso all'ultimo Woody che non aveva la sua voce, insomma fa un po' specie. E' sempre comunque come diceva Freddy, come direbbe forse anche Fabrizio appunto, the show must go on. Mi ha sentito Freddy Mercury, mi ha sentito The Queen, diciamo che la Gran Bretagna ha dato grandi artisti alla musica mondiale, tra cui ad esempio un altro Sir, Sir Elton John, che è tornato poi ultimamente a far canzoni anche con gente più moderna, no? E allora Sir Elton John insieme a Dua Lipa. Elton John insieme a Dua Lipa, Kulhart, alle 8 e 49 minuti di oggi, il lunedì 5 febbraio, abbiamo parlato della giornata di oggi, della data importante, dei nati, degli sportivi che oggi sono nati in questo giorno, ma non possiamo dimenticarci cosa è nato invece il 4 di febbraio, cioè ieri, ieri nel 2004, nasceva Facebook. 20 anni di Facebook, signori. La novità, no? Quando si dice i new media, quelle cose moderne lì non le capisco, ah no, quelle diavolerie lì non le capisco, 20 anni che c'è. E' 20 anni che è in mezzo a noi e distrugge la nostra no, non è vero. Anche lì, io lo difendo in realtà, l'idea iniziale di Facebook, però dopo ovviamente il problema è che come si fa a far mantenere, cioè allora di base la difendo sì e no, nel senso che mentre ci parlo ci penso non è che la difendo proprio in realtà, cioè la difendo sì e la difendo no, nel senso che dietro a queste operazioni delle IT grosse, delle grandi compagnie, dei social network, in realtà c'è una grande menzogna, nel senso che ti viene venduto Facebook come ti ritrovi con i tuoi amici e parli dei fatti tuoi e invece è un veicolo commerciale come tanti altri. La differenza è che molti sappiamo, riconosce la differenza tra pubblicità e non quando leggiamo un giornale, quando guardiamo una trasmissione televisiva o quando vediamo dei cartelloni pubblicitari in giro per la città, magari non riusciamo a capire invece la portata economica e il sistema economico che sta dietro ad un social network e quindi per quello insomma un po' c'è la grande menzogna secondo me, dietro la spopolare di questi e anche di altri, perché non è che quelli dopo sono stati meglio, cioè sono tutti, anzi, se proprio vogliamo guardare, possono anche peggio e spesso i menteri poi si va anche su fasce di età che hanno difficoltà a capire appunto la differenza tra realtà e non realtà e non sto a parlare solo degli anziani, ma parlano anche ad esempio dei super 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 giovanissimi. 8.54 e 40 secondi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Crystal Radio, sempre qui per raccontarvi Milano, la grande città metropolitana e tutto ciò che fa Milano. Dopo di noi, come sempre, Ambrogio Curti con SentiQuesta, chissà quali storie e racconti avrà quest'oggi il buon Ambrogio o magari lo sapete già perché avete seguito anche l'anteprima, l'anteprima che abbiamo mandato in onda poco fa di SentiQuesta di tutta la settimana. Noi ci sentiamo domani mattina, dalle 7 alle 9, sempre qui su Crystal Radio, ma da Sanremo, ebbene sì, fra poco ho un treno, parto, me ne vado giù, insieme alla collega Alex Piero e poi ci sentiremo anche comunque nei pomeriggi, in modo da fare i collegamenti, in modo da parlare di stare, insomma tante tante cose, ma comunque domani mattina vi spiego tutto bene. E ringraziando la Sly and the Family Stone Band che ci dà sempre questa sigla finale, io vi ringrazio per averci seguito quest'oggi e vi do appuntamento a domani, come sempre appunto vi ripeto, dalle 7 alle 9, qui su Crystal Radio. E ringraziando ancora una volta Viola al di là del vetro, vi saluto, vi saluto definitivamente per oggi, noi ci sentiamo domani, noi vi lascio nelle mani di Ambrogio Kurti, vi lascio nelle mani della grande musica di Crystal Radio. Ciao domani, ciao!